e ci tratti domenico su una sfida che vi ho oggi ho sciappato il bundle cartoon con varietà cartoon cioè dei boschi cartoon abbiamo pure il piccolo e quest'altro piccolo poi le tavole e poi gli zaini e adesso io voglio trovare i pezzi dei boschi e mentre io metto la decretiva e vi dico che tu scrivi al canale e vi dico al canale e vi dico al canale il creativo ma vabbè quel piccolo questo è questo pollo questo è quello che mi dico la metrietta con la pompa e con le tavole questo invece così costruisce adesso io vi faccio vedere baronetta cartoon qui ecco la baronetta cartoon con le armi guardate qua senta così la mira così 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 è molto così così è piccola è piccola qui è piccola qui ci costruisce questo è tutto è tanta roba questo è tutto questo è tutto questo è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto che mi piace di più 3 2 tra baronetta cartoon e cespuglietto cartoon e io vi dico ci ci vediamo ad un prossimo e in un prossimo video ciao ciao e quale scegliete tra baronetta cartoon e cespuglietto cartoon io vorrei collezionare tutti i deschi in cartoon manca solo il mio scolo cartoon e poi è finito tutto grazie a tutti